Da qualche giorno c'è una postazione fissa di autoverco sulla stradale 18 che porta tra Palmi e Gioia Tauro. È in funzione, velocità 50 km orari, è nel centro abitato. La postazione è già in funzione, è già operativa. Abbiamo fatto un giorno di sperimentazione, di prove tecniche, diciamo di sperimentazione, adesso è già operativa, è già in funzione. E devo dire che sta già funzionando, perché stiamo notando con piacere che i flussi stradali stanno notevolmente rallentando la velocità. Quella era una tratta, sì, è stata alle 18, ma è una tratta che in realtà è stata, rientra tra le tratte trasmesse da ANAS al Comune di Palmi, quindi è nella totale gestione e competenza del Comune di Palmi, e rientra tra le strade urbane. Il limite di velocità imposto è quello dei 50 km orari, come per le strade urbane. È una tratta molto delicata perché ha una forte pendenza ed è molto pericoloso, dove avevamo registrato appunto la tendenza ad andare a velocità eccessiva. Nel solo 2002 teniamo presente che solo noi, come organi di Polizia Municipale, avevamo rilevato ben 10 sinistri stradali, dei quali 8 con lesioni anche abbastanza serie. Quindi bisognava certamente prendere dei provvedimenti. Avevamo già noi un autovelox di quelli mobili e avevamo notato che facendo una postazione mobile di autovelox il traffico chiaramente, la velocità si rallentava. Però ovviamente appena la postazione andava via riprendevano a transitare i veicoli anche in velocità non adeguate a quel tratto di strada. Riteniamo con la postazione fissa di aver raggiunto l'obiettivo appunto di contenere notevolmente la velocità. Non fate cassa ma fate sicurezza. Assolutamente sì, questo deve essere chiaro perché la finalità dell'autovelox non è quello di fare cassa ma di fare prevenzione. Tra l'altro l'autovelox lo si noterà benissimo, è estremamente visibile. C'è la cartellonistica messa a norma di regolamento di esecuzione del codice della strada, sia prima che dopo in ambie due sensi di marcia. C'è la postazione che è segnalata dalla cartellonistica che indica l'autovelox. Quindi si fa di tutto per renderla visibile proprio perché la finalità è quella di fare rallentare, non di far passare velocemente per poter sanzionare. Quindi assolutamente sì.